recentemente ancora una volta il grande cuore del cannavese si è dimostrato veramente grande stasera abbiamo un ospite importante che è luca cattario tu spostare il fango i detriti e lo si fa ma c'è sempre una componente umana e la componente umana è la componente più grande la componente emotiva serve bracciaforte grande cuore grande impegno voglia di mettersi a disposizione per gli altri